A forza di cercare soluzioni, mettere a disposizione strutture anche pubbliche e invitare i privati a affittare i loro immobili, la provincia di Prato ospita oggi 730 immigrati, 50 dei quali entrati nello Sprar, il sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati, che oggi è al massimo della capienza e non potrebbe contare nemmeno una persona in più. I posti per l'accoglienza nel tempo sono piano piano cresciuti fino ad arrivare a quota 730, soglia massima anche secondo il metodo di calcolo varato dal Ministero, che mette in relazione il numero di persone da accogliere a quello della popolazione residente. Da tanto tempo a Prato si ventila l'ipotesi di un campo profughi. La prima volta fu alla fine di giugno del 2015, quando il prefetto Maria Laura Simonetti rivelò la disponibilità di 10 tende da 8 posti ciascuna da allestire solo in caso di estrema necessità. Necessità estreme fino a oggi non ce ne sono mai state, perché quando si è trattato di aumentare i numeri dell'accoglienza, i comuni hanno fatto sempre il possibile e anche l'impossibile per trovare alternative al campo profughi. Gli sbarchi una volta solo stagionali sono una costante durante tutto l'anno ed ecco che Prato nel bando della prefettura è chiamata a uno sforzo ulteriore e i 680 posti di oggi escluso lo Sprar diventeranno 900. Le associazioni che attualmente gestiscono l'accoglienza nella provincia di Prato, l'incarico scade a febbraio, non sono certe di poter sostenere 200 presenze in più. Chi arriveranno c'è poco da fare se la situazione continuerà ad essere quella che conosciamo. Per allora Prato dovrà essere preparata ed è questo l'obiettivo della prefettura, garantire il massimo dei posti che si stima serviranno. E mentre il comune di Prato punta i piedi, le reazioni politiche non mancano. Aldo Milone, capogruppo di Prato Libera e Sicura, accusa il sindaco di finti proclami quando dice che Prato è satura e di più non può fare. Di amministrazione comunale sbeffeggiata dal governo parla Giorgio Silli, Forza Italia, che lancia un appello alla maggioranza. Scriviamo e votiamo un ordine del giorno contro questo atteggiamento del governo che continua a essere nemico della nostra città. La Lega Nord definisce folli le politiche del PD. La logica dell'accoglienza indiscriminata e di un sistema orientato al sostegno degli immigrati a discapito degli italiani, commenta Patrizio Battoni, segretario provinciale, crea terreno fertile per una guerra tra poveri, fatta di quartieri Ghetto e di un aumento esponenziale dell'insicurezza.